Ho chiamato Antonello questa mattina perché? Perché l'Iran chiaramente, come sapete, è un paese di cui in questi giorni si sta parlando tanto e lui ha pubblicato questo libro inizio col chiedergli perché questo libro in questo momento in cui l'Iran è così al centro di riflettori ma in chiave negativa, no? Cioè cosa vuoi anche suscitare nel lettore? A te Antonello. Guarda, in realtà questo libro era in gestazione da molto tempo, in realtà lo aspettavo di scriverlo, di completarlo da prima di quest'ultima fase così critica per l'Iran e per il Medio Oriente in generale. All'indomani dell'ultimo viaggio che ho fatto in Iran, che è stata la scorsa primavera, poi è successo veramente di tutto, di più, ma il senso di questo libro, il senso di questo lavoro è stato in qualche modo ancora di più arricchito, ancora di più sottolineato dagli eventi che si stanno succedendo. Quello che io volevo, che vorrei suscitare nel lettore e anche suscitare magari nella discussione è che ci sono delle contraddizioni molto evidenti nel tutto quello che ruota attorno all'Iran. Cioè, tu ricorderai quando più o meno un mese fa, un mese e mezzo fa, non ci siamo visti per parlare del nuovo presidente eletto, Proseskian, e allora diciamo il mantra che circolava sui media più importanti, diciamo sul mainstream, era Sì, d'accordo, ha vinto un riformista, ma riformista con pochi poteri, perché in Iran decide tutto la guida, quindi di fatto sono lezioni inutili, tanto l'Iran è una teocrazia a guida della guida suprema, Kamenei è quello che decide tutto. A me sono concesso che sia così, io da anni sostengo che non sia così, quando però poi negli ultimi giorni, dopo l'omicidio di Nasrallah da parte di Israele, l'Iran non attaccava, non ha reagito immediatamente, Gli stessi osservatori che allora dicevano che l'Iran era un blocco unico, un regime con un uomo solo al comando, dicevano che l'Iran non lo sta facendo perché in realtà è diviso, perché in realtà all'interno del sistema ci sono anime e fronti diversi, perché in realtà addirittura qualcuno ha ipotizzato, è stata un'intervista rilasciata da Anais Ginori su Repubblica, di Gil Keppel, dicendo addirittura E' l'Iran che ha venduto Nasrallah agli israeliani, perché l'Iran di fatto c'è una parte che si sta consegnando agli israeliani, che è d'accordo con gli israeliani. Allora delle due luna, non è che si è a giorni alterni un regime monolitico e un altro giorno invece è troppo diviso, con i giorni pari non c'è nessun confronto, i giorni disperi invece sono talmente divisi che non riescono a decidere. Già questo basterebbe a spiegare come tutta la narrazione sull'Iran sia tendenziosa, ed è tendenziosa anche per altre questioni abbastanza semplici. Uno perché molta gente non lo conosce l'Iran, ed Iran è uno di quei paesi su cui tutti si sentono in dovere e in diritto di asprimere opinioni, però non lo conoscono. Non lo conoscono perché l'Iran, come tutte le realtà, è dinamico, cambia. Non è che ci si può affermare all'Iran della rivoluzione per dare un giudizio sul presente, come non vale per l'Italia, non vale per nessun paese. Invece sull'Iran rimane un'immagine statica, cioè l'Iran ha fatto la rivoluzione, ha imposto il velo alle donne, quindi noi stiamo a parlare principalmente di questo. Anche i commenti di queste ultime ore, di questi giorni, alla fine vanno a sbattere sempre lì. Invece nell'analisi, in un'analisi onesta, che capisco sia un po' più complicata, sia un po' più faticosa, ci sono due o tre elementi che secondo me non possono essere esclusi. E nel libro li ho trattati. Uno di questi è la componente demografica, per cui l'Iran non è il paese dei giovani, come viene descritto dai media, ma è un paese che è stato molto giovane, ma che adesso sta invecchiando, e che anzi attraversa una fase molto particolare dal punto di vista demografico, che è sia un punto di forza, almeno potenzialmente, ma che impone delle scelte molto nette nei prossimi anni. Nel libro lo spiego. Nel libro lo spiego. Grazie.